Altri 120.000 euro a fondo perduto per bar, pub, ristoranti e associazioni sportive dilettantistiche. Il Comune mette a disposizione ulteriori fondi, ovviamente integrativi alle misure nazionali e regionali, per una ulteriore mano a quelle categorie maggiormente colpite dal Covid e dai vari DPCM di chiusura, anche semplicemente parziale. E quindi servizi di ristorazione e associazioni sportive che gestiscono palestre, piscine, centri polisportivi e scuole di ballo. I beneficiari dovranno essere titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attivi con serie legale e operativa nel Comune di Bitonto, mentre per le associazioni è richiesto che siano titolari di un contratto di locazione per l'immobile in cui viene svolta l'attività sportiva sospesa. Ma non è tutto, per i richiedenti dovranno essere in regola il 31 dicembre 2019 con il pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza comunale, o al massimo avere una pendenza inferiore ai 500 euro. Per i bar, pub e ristoranti il contributo comunale è calcolato sulla percentuale di minori in tassi del mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Per le associazioni invece oscillerà tra i 500 e i 1000 euro. I contributi saranno erogati a tutti coloro che presenteranno domanda entro i termini prestabiliti, e cioè entro il 26 febbraio.